Buongiorno al chiederino, buongiorno al chiederino di medicina per l'anima, ricordo i libri, questi qui sono quelli delle storie, vi dite sempre che vi piacciono le mie storie, ecco questa qui è una cosa delle mie storie, pensieri dottori numero uno, pensieri dottori in ordine sparso, questo è il primo, pensieri dottori in ordine sparso numero due, questo è il secondo, c'è tutta la storia che vi racconto ogni tanto, che vi dite tutte che vi piacciono, vabbè questo è il libro, li trovate qui l'orchiderio oppure su Amazon, ora la pianta di oggi è la catena intermedia ametistina, perché è la bella ametista, adesso si sta aprendo quando è ben fiorita poi facciamo un video, sperando che facciamo anche altri fiori, rispetto a tutte le altre catena intermedia, è una che resta molto piccola, resta compatta, non viene grande come le altre, le altre vengono grandi così, questa qui resta invece 20 cm di gambo, fiorisce sempre in primavera come le altre, le altre intermedie, questa grazionistica qua a destra le basse, c'è un sacco di varietà di intermedia, c'è un casino, va bene, allora ieri abbiamo parlato della lotta biologica, gli insettini, l'altro ieri, ecco adesso vi dico cosa costano questi insettini qua, crisoperla cardia, 1000 insettini costano 17,30 euro, queste qui sono delle larve di crisoperla, praticamente queste qui sono morossissime, devono oltre a cociniglia, aprile anche altre cose, e poi dopo, perché fanno la muta, metterlo le ali e volano via, però nel frattempo in un attimo pulisco tutto, vi ricordo la prima volta abbiamo fatto forse 20 o 30 anni fa, nella scena dell'acqua, il proprio pedium, avevamo un bancario di 40 metri di proprio pedium, pieno di cociniglia, allora il tecnico era il dottor Rampinini, forse il miglior tecnico che abbiamo avuto in Italia, il tecnico di floricoltura, mi ha detto facciamo la tua biologica, va bene, allora dice però la crisoperla, le larve non volano, per cui se no devo scendere da una pianta, se sull'altra così, allora devi mettere, mi diceva, della striscia tipo stralepilati, se poi basi, così poi da un po' di 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 tutto, e l'altro invece, da mettere assieme, che è più costoso, è quello piccolo piccolo, questa volta è l'anagirus vladimiri, 250 insertini microscopici, piccolissimi, costano 40 euro, se la cociniglia fosse la crisoperla va bene in casa, questo qui da mille, ce l'ha finché ne volete, le trovate su, allora la ditta è Bioplanet, però per comprarle dovete andare su Verde Piano, Verde Pieno, ve lo metto sotto nella descrizione, Verde Pieno, in internet c'è gli insettini, cosa volete, al limite potete chiamarli per vi dare dei suggerimenti cosa prendere, così quanto spazio avete e quanti ce ne vuole, non credo che costi tantissimo più di un trattamento con fitofarmacy, hanno dei grandi vantaggi, ieri poi volevo rispondere, poi ho dovuto scendere, non mi sono dimenticato, c'è uno che ha scritto va a dare in giro gli insetti così per casa, che sbalazzano per casa, non va bene, beh neanche dare veleni per casa non va bene, anche perché questi veleni, tutti i fitofarmacy hanno una tossicità e in casa, cioè possono persistere anche per diverse settimane, mentre gli insettini qui fanno la muta e vanno via. Se avete in casa bambini o cani, si vanno giù qualche goccia così per terra, sul pavimento, sul tappeto, su una tenda, può essere pericoloso, può essere così. Oggi si tende a fare la lotta biologica un po' in tutto, mi ricordo che anni fa avevo fatto quell'articolo sulle mele di Biancaneve, quando vado al supermercato che vado tutte quelle belle mele, belle, lucide, tutte perfette, senza minimo puntino, mi viene in mente la mele di Biancaneve, perché per avere così bisogna fare un sacco di trattamenti programmati, ne danno uno alla settimana con un cocktail di fitofarmacy per prevenire tutto, perché se c'è un puntino basta, non lo vendono più. Mentre invece se mangiate le mele biologiche sono pieni su ruggine, ammaccature, qualche puntura di insetti o qualche fungo così, le pulite, ma le mangiate le mele che sono buonissime, il sapore delle mele, soprattutto delle mele antiche, non avete che vedere con le mele che vendono oggi, è tutta un'altra cosa. E questa qui evitate di mangiare le mele di Biancaneve. Penso che la lotta biologica, se uno ha un'infestazione così, costa 17,50 euro, con quello di trasporto, costa 25,30 euro, ma se fate e comprate un fitofarmaco, poi queste fitofarmaci qui, quello che usate e quello che non usate, diventa un problema, perché dovete conservarlo, ma non posso riparare, è difficile, ben chiuso, che è di accessibilità per i bambini, perché poi conviene, però bisogna come rifiuto speciale, perché poi col tempo si degrada, non va più bene e tanti non c'è nessuna data di scadenza, tante volte prendi un insetticida che non c'è solo data di scadenza, magari è vecchio e non funziona, dici magari l'altra volta ha funzionato e adesso non funziona più. Ecco, voglio dire che secondo me la lotta biologica è sicuramente non correte rischi per la salute, perché assolutamente non c'è nessuna tossicità, evitate di fare i trattamenti, che non è bello fare questi trattamenti qua, dovete mettere mascherina, guanti, così, e impegni che poi comporta, bisogna aprire finestre, tenere finestre aperte perché cambiare l'aria, perché l'aria si impegna di queste sostanze, questi insettini qua che fanno il loro lavoro, poi volano via, chiuso, risolto il problema. Ok, a domani.